salve e benvenuti a dotnet podcast il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie microsoft e non solo io sono roberto e io sono luca questa è la prima puntata di microsoft news una nuova serie che abbiamo pensato di realizzare per aggiornarvi su tutte le novità che arrivano da casa microsoft questa serie avrà inizialmente una cadenza bisettimanale almeno per i primi tempi e poi vedremo in seguito come se detenete questa frequenza o cambiarla insomma decideremo man mano in ogni puntata che faremo di questa serie tratteremo un tema particolare e riguardo a quel tema andremo ad affrontare alcuni punti diciamo delle novità che abbiamo visto negli ultimi tempi di microsoft e per esempio potremmo avere puntate dedicate ad azure windows visual studio xbox e così via questa prima puntata è dedicata a office 365 teams e collaboration e in particolare parleremo proprio di microsoft teams e gli argomenti che affronteremo in questa puntata sono le nuove opzioni riguardanti alla sala d'attesa e relatori il la nuova funzionalità di soppressione dei rumori di fondo e le novità riguardanti i nuovi device che hanno realizzato con un'integrazione diciamo proprio per teams per microsoft teams o innanzitutto volevo dire teams ormai da quando iniziata la pandemia ha avuto una crescita esponenziale luca che numeri ci abbiamo sotto banco sotto mano sì sì sicuramente guarda teams se se posso dire penso che sia l'applicazione di microsoft che più è uscita diciamo dalla nicchia degli specialisti cioè nel senso è sulla bocca un po di tutti perché sia appunto per chi lavora nell'it eccetera ma anche per tutte le scuole eccetera quindi c'è stato un diciamo una notorietà oltre diciamo quelle che sono appunto le le persone che che ci lavorano nello specifico e in particolare teams abbiamo adesso annunciati questi numeri ufficiali diciamo di microsoft abbiamo avuto a fine marzo quindi parliamo adesso di proprio numeri recenti parliamo di 145 milioni di utenti attivi al giorno quindi davvero numeri interessanti è carino perché ogni volta che si parla di numeri c'è sempre un po no di rincorsa tra tra teams google e zoom e slack eccetera quindi però la cosa bella è che nessuno dà mai gli stessi numeri cioè danno tutti i numeri grandi ma uno parla di utenti nuovi utenti registrati e l'altro parla di ore di conversazione al giorno ognuno si sceglie la sua metrica dove appare meglio chiaramente vabbè ma questa è parte un po della concorrenza insomma però chiaramente appunto abbiamo detto 145 milioni se pensate che prima della pandemia teams era sotto così a memoria vado era sotto i 30 milioni quindi veramente c'è avuto un grosso di quinto duplicato se quinto ricordo il numero vabbè tu sei molto aggiornato anche perché ti occupi per lavoro insomma essendo tu ricercatore universitario e anche docente in passato insomma conosci bene l'ambiente delle della didattica a distanza tutte le tematiche didattica a distanza quindi sai anche che è diventato uno strumento che appunto oltre le aziende si è diffuso moltissimo anche in ambito scolastico quindi raccolto sì 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 le scuole le università sono quasi tutte microsoft nel senso come strumenti per la didattica a distanza le scuole microsoft è arrivata un pochino più tardi quindi in italia in realtà abbiamo google che fa diciamo la parte del leone però ci sono tante altre diciamo aree e penso per esempio mi ha detto se vai a vedere adesso teams anche il lo strumento ufficiale su cui fanno non so tutte le udienze tutte le cose di giurisprudenza insomma virtuali le fanno con teams quindi è quello che dicevamo prima è uscito un po da dalle dall'ambito solo it insomma e beh certo ed essendo appunto uno strumento che sta avendo un'evoluzione esponenziale una crescita esponenziale le novità sono sempre tantissime noi abbiamo deciso di optare per queste tre in questa puntata poi magari in qualche altra occasione in cui pari parleremo di di office 365 microsoft 365 teams perché poi office 365 è un termine che ancora esiste perché per le scuole si chiama ancora office 365 mentre invece per le altre gli altri ambiti si chiama microsoft 365 però ne parleremo ancora gli argomenti che abbiamo deciso di affrontare sono sono tre che ci sembravano un po più interessanti per questa puntata allora partirei col primo argomento allora le nuove opzioni per la sala d'attesa e per i relatori quali sono queste nuove opzioni luca si alla fondamentalmente vabbè teams ha sempre avuto una diciamo una gestione abbastanza attenta di chi può entrare chi non può entrare nei link possiamo come amministratori bloccare gli accessi degli esterni degli anonimi eccetera questo possiamo gestirlo abbastanza bene quando però mettiamo facciamo il caso che noi abbiamo una delle impostazioni per cui le la nostra punto organizzazione è aperta anche agli esterni questo vuol dire che se quel link di quella riunione va all'esterno chiunque potrebbe entrare in quella riunione e per questo sono state introdotte è stata introdotta diciamo quasi subito la sala d'attesa soltanto che fino a poco tempo fa quindi diciamo fino a un mesetto fa la diciamo adesso perché credo che sia importante anche se non è proprio una novità freschissima però le le opzioni della sala d'attesa erano fondamentalmente ok entrano tutti direttamente quindi nessuno fa la sala d'attesa oppure entrano direttamente solo quelli della tua organizzazione quindi quelli della tua azienda oppure entra solo il relatore ok cioè l'organizzatore quindi diciamo era un po grossolana come come divisione no perché magari appunto anche in azienda io potrei avere una riunione riservata con alcuni colleghi dell'azienda e non voglio che se va in giro il link qualcuno può entrare senza che io possa diciamo frenarlo che debba cacciarlo via durante la riunione chiaramente può portare alle cose spiacevoli queste situazioni no perché poi diciamo alcune cose sono riservate ma magari non si può dire che sono riservate quindi che entra qualcuno che fa gli dice no tu non sei gradito esatto ok e quindi praticamente adesso quello che hanno fatto è questo che se se facciamo delle riunioni invitando delle persone specifiche possiamo anche decidere che quelle persone specifiche saltino automaticamente la sala d'attesa e quindi c'è questa opzione in più che dice ok quindi anche se il link va in giro apparirà il messaggio dirà massimo vuole partecipare a questa riunione sarò io a decidere se farlo entrare non farlo entrare quindi persone della stessa organizzazione quindi esatto sempre persone della stessa organizzazione e posso però avere appunto una 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 regolazione diciamo più più granulare di chi entra direttamente e chi non entra direttamente questo può essere molto utile nelle aziende perché effettivamente io posso effettivamente evitare di condividere questo link con persone della stessa azienda che non voglio che partecipino per esempio quindi appunto decido solo chi ha messo ad entrare tutto il resto senza l'attesa e magari non li faccio mai entrare se non voglio oppure li faccio entrare dopo un po' perché finiamo di parlare di un argomento delicato e dopo un po' lo facciamo entrare quindi ha una certa utilità anche professionale non solo generica per le riunioni scolastiche o altre cose del genere certo per le riunioni scolastiche chiaramente è fondamentale perché qua ci abbiamo avuto durante il lockdown zoom bombing gente che entrava che proprio si sono fatti gruppi organizzati per andare a distruggere le lezioni diciamo che è molto utile anche in quel in quell'ambito lì quindi va bene quindi adesso diciamo la persona che organizza una riunione può decidere esattamente chi far entrare subito eventualmente chi anche all'interno della propria azienda consentire solo a tre persone per sempre entrare le altre no esatto e è collegata a questa impostazione perché praticamente è la stessa cosa possiamo decidere prima della riunione chi sono i relatori della riunione cioè quelli che possono appunto gestire la sala d'attesa cacciare via eventuali persone condividere lo schermo registrare la riunione cioè tutte quelle cose che sono diciamo riservate ai relatori possiamo decidere che appunto io ho invitato roberto e quindi non solo gli organizzatori ma anche lui appena entra è automaticamente relatore quindi funziona allo stesso modo insomma e quindi anche questo è una funzione utile perché ci evita che magari perdiamo tempo aspetta fammi relatore perché devo far vedere slide cioè è un po ci risparmia insomma questo è sono tutte quelle funzionalità che man mano che nasce l'esigenza poi vengono vengono implementate resi disponibili quindi ci sta che ci abbiano messo un po perché come dicevi tu è cresciuto improvvisamente il bacino d'utenza quindi e sì ma prima prima soprattutto le riunioni queste online erano un accadito cioè venivano fatte una volta ogni anno non erano la norma adesso fondamentalmente 90 le aziende che hanno iniziato a lavorare bene con smart working a distanza eccetera chiaramente non c'è nemmeno più una necessità di fa tutte le settimane a riunioni in azienda che magari uno deve anche andare in un'altra città eccetera ormai si fanno tutte online le riunioni cioè ebbe certo e quindi chiaramente prima magari queste impostazioni potrebbero essere diciamo sovrabbondanti perché se ne facciamo talmente poche adesso invece sono essenziali perché ce n'hai una anche una giorno ce ne avrai almeno di riunione insomma e voglia magari una sola va bene allora il secondo argomento è riguardante la parte della soppressione dei rumori di fondo che è stata migliorata questa notizia bellissima ce l'ho già è disponibile ed è una bellissima cosa di che si tratta si è diciamo abbiamo anno integrata all'interno di teams la funzione che se uno la vuole fino adesso dovevi comprare non lo so un una cuffia col microfono particolare che ce l'aveva in hardware o comunque un dispositivo particolare oppure usare dei programmi di filtraggio insomma cose molto complicate adesso è una un'opzione dentro la riunione teams vai e dove scegli le cuffie quale usi il device che usi automaticamente può decidere se la questa funzione attivata disattivata alta bassa cioè qual è il livello e questo pure questo pure me lo puoi raccontare anche tu uno quando uno è costretto a lavorare da casa è più che utile io io ho i problemi con l'aspirapolvere mia moglie sta sempre in giro con l'aspirapolvere quindi se funziona per quello ti posso dire che funziona tutto insomma guarda non ho provato direttamente ho visto nella demo l'aspiratore l'aspirapolvere viene eliminato cioè funziona quindi se uno creda le demo e non ci diciamo che se funziona la metà di quello che c'è nella demo esatto diciamo facciamo che siamo fiduciosi ok e che quindi almeno sarà attenuato questo aspirapolvere ma si tratta comunque di una capacità software a questo punto cioè perché ovviamente non cambia niente nell'hardware che tu hai prima e dopo cioè semplicemente tim se che capisce quali frequenze non sono la voce e le esclude qualcosa del genere sa esatto sì ci saranno degli algoritmi diciamo di riconoscimento di filtraggio automatico appunto magari basato sulle frequenze di noise oppression insomma quello che bisognerebbe capire se funziona per esempio con anche con voci fuori campo no quello sarebbe interessante però bisogna bisognerebbe fare dei test test insomma magari lo proviamo e ne parliamo poi la prossima volta magari lo possiamo provare facciamo dei testi faccio di mia moglie con la spiega polvere va bene senti l'ultima notizia è una notizia abbastanza interessante noi abbiamo fatto una una mini selezione perché non vogliamo andare diciamo parlare per ore perché effettivamente sono tantissime novità di team se ce ne sono ogni mese tantissime per cui è veramente difficile scegliere però questa qua ci è sembrata abbastanza intrigante e utile cioè ovvero l'integra diciamo la la presentazione di tutta la serie una linea di nuovi device diciamo ovviamente per lo scopo business quindi per le aziende e comunque per le attività professionali non tanto per per la per la casa insomma di device che hanno un'integrazione per teams questo è molto utile perché ormai nelle aziende come dicevi tu si usa tantissimo teams e quindi magari se dobbiamo organizzare una riunione in una sala riunioni è vero che adesso siamo ancora in mezzo lockdown però da poco io ti dico che vado in ufficio tutti i giorni quindi c'è tanta tanti colleghi che vengono già in ufficio tutti i giorni e altri che non aspettano altro che venire quindi tra un po ci saremmo una volta tutti speriamo e nelle sale riunioni abbiamo sempre i soliti i soliti telefoni sulla scrivania per le per le per i meeting adesso invece abbiamo dei device che possono fare la stessa cosa ma non integrazione con teams giusto si si sfruttano diciamo l'integrazione che ha teams nelle diciamo nelle fasce più alte di microsoft 365 all'integrazione anche con pstn quindi ci potete integrare la fonia tradizionale con teams e appunto questi dispositivi permettono di per esempio fare una chiamata di teams direttamente al telefono quindi senza nemmeno accendo il computer eccetera quindi questa è la prima classe di dispositivi ci sono poi degli aggiornamenti sui dispositivi che microsoft chiama le teams room cioè dei dispositivi tipo quelli altoparlanti intelligenti che sono nelle stanze riunioni che possiamo proprio associare e inserire nell'organizzazione perché così possiamo passare per esempio le riunioni sullo speaker quello condiviso della stanza eccetera e poi ci sono dei device interessanti e questi proprio a marchio microsoft che sono delle cuffie delle anche qui un altro uno speaker intelligente che hanno l'integrazione con teams cioè hanno proprio la a parte la certificazione per il diciamo il il codec proprio c'è per per l'integrazione ma proprio hanno un pulsante hardware che vi permette automaticamente di collegarvi alla prossima riunione programmata quindi voi vi sedete cliccate senza dover andare a cercare il link eccetera che lui è già dal vostro account quale la prossima riunione vi collega automaticamente così come con un pulsante potete scollegarvi dalla riunione ok quindi questo pure potrebbero sono diciamo funzionalità magari stupide nel senso che uno può sembrare una piccolezza che però invece possono essere comode no ma in effetti adesso con tutte le serie che facciamo è probabilmente una una funzionalità molto interessante perché tu arrivi nella sala riunioni a quel punto premio un pulsante parti questo è una facilità estrema non devi neanche aprire outlook da cerca l'appuntamento cioè fa veramente in un attimo ed è comunque un discorso che a questo punto riguarda anche l'integrazione all'interno della struttura dell'azienda non solo delle identità dei dipendenti che usano ma anche delle identità dei device su cui far convergere la chiamata a quel punto eh sì sì è chiaro che è tutto diciamo è tutto gestibile in un modo centralizzato cioè sia che sia per device o che sia per room o che sia per utente possiamo decidere noi insomma e quindi gestire bene e poi passare anche per esempio si possono passare le chiamate le riunioni da un tipo di device a un altro che magari io sto nella room a un certo punto mi devo spostare posso subentrare col mio device personale e chiudere quello della della stanza quindi tutti questi tipi di immobilità cioè di riunioni agili per chiamiamole tutti questi deve essere però in questo momento ancora non sono disponibili in italia giusto no no allora questi quest l'ultima ondata che hanno annunciato dovrebbe essere disponibile da giugno quindi tra pochissimo in distribuzione da giugno poi giugno non si sa mai se è inizio o fine no però è interessante perché hanno fatto appunto anche delle delle cuffie che sono tipo le cuffie surface cioè sembrano come aspetto quelle che però partono tipo da 99 dollari quindi anche a un prezzo diciamo più entry level abbia come no esatto quindi io questo per esempio sono curioso di provarle e mi sa che le prenderemo un po' tutti perché è uno magari c'è perché poi se uno sta sempre tu lo so roberto in particolare stai sempre alla ricerca della cuffia perfetta sì io io ci provo sempre a comprare cuffie ma poi alla fine ne ho tante proprio perché cerco la cuffia perfetta e non non è facile trovarla no però effettivamente se queste sono integrate con teams è veramente una comodità visto che tanto la maggior parte della giornata veramente la passiamo ormai su teams anche se vado in ufficio ripeto perché io sono tornato in ufficio per una scelta ma tanti colleghi preferiscono comunque continuare a lavorare da casa e ovviamente fanno benissimo ognuno fa come meglio meglio crede per cui abbiamo comunque una parte del team la maggior parte del team ancora distribuito è l'unico modo è attraverso le chiamate su teams le meeting e tutto quello che quindi siamo sempre con la cuffia alla fine tutta la giornata vedi ora ti racconto questo dato noi all'università abbiamo un ragazzo che sta facendo il master con noi e però è carino perché noi all'università chiaramente non abbiamo questa struttura di con le room di riunione le sale riunioni eccetera e quindi per esempio quando ci vediamo questo ragazzo su teams in realtà poi io sto la mia scrivania il professore sta la sua scrivania cioè siamo magari a stanza uno di fronte all'altra però ognuno su teams e parliamo insieme a questo e quindi facciamo la riunione da da stanza davanti a stanza di fronte insomma ormai è più facile così però è così insomma va bene allora questa prima puntata è diciamo la prima puntata della serie microsoft news e abbiamo parlato appunto di office 365 teams e collaboration come tematica e ovviamente ce ne saranno tante altre di novità per teams man mano le le proporremo di nuovo in ogni caso questa serie andrà avanti sì dico solo per concludere non l'abbiamo accennato però diciamo ci limiteremo a parlare di quelle novità diciamo che sono già disponibili o comunque in proprio in arrivo cioè perché microsoft ha fatto tante annunce poi magari non rispettano la data di delivery eccetera quindi ci teniamo insomma per quando le vediamo insomma con i nostri occhi certo certo infatti non vedo l'ora di comprare queste cucchia adesso mi hai messo una buccia devo spendere tanti soldi va bene io non so se vogliamo se metteremo poi dei riferimenti diciamo anche a queste news se le vogliamo mettere i riferimenti ufficiali dentro sulle note insomma qualche link lo metteremo sicuramente ai commenti che abbiamo trattato e con microsoft news ci vedremo fa qualche settimana e con le puntate di totale podcast alla prossima quindi io saluterei tutti quelli che ci hanno ascoltato e li ringrazio per il tempo che ci hanno dedicato ciao a tutti e grazie ciao roberto ciao ciao a tutti ciao ciao a tutti